dalla famiglia delle sapotacee ovvero dalla noce di argan si ricava un olio molto importante e molto ricco che piano piano stanno cominciando ad utilizzare tutti quanti se non altro per le sue proprietà innumerevoli che riguardano e coinvolgono sia il viso che il corpo e i capelli quest'oggi prima di parlarvi dell'offerta del giorno vorrei fare proprio alcuni cenni riferiti a questa fantastica e preziosa pianta che ci regala veramente un'infinità di benefici per il viso per il corpo e per i capelli questa pianta che proviene dal marocco e che con esattezza viene dalla famiglia delle sapotacee conosciuta meglio ancora come argania spinosa dalla noce di argan si ricava un olio ricco di vitamine a e e di omega 6 antiossidanti ma vediamo quali sono gli innumerevoli usi oggi ve ne elencherò 12 nello specifico che tutti voi potete effettuare proprio acquistando quest'olio allora quest'olio potrebbe risultare abbastanza costoso ma la buona notizia è che essendo molto pure concentrato l'utilizzo verrà diluito nel tempo e quindi andrà a durare tantissimo anche perché bassa la concentrazione di pochissime gocce per risultati visibili e concreti su viso corpo e capelli appunto ne passano poche gocce vediamo qual è il primo utilizzo lo potete utilizzare appunto come crema idratante da applicare sul viso e sul contorno occhi perché risulta essere molto efficace per entrambi le parti del corpo in quanto risulta anche assorbirsi molto velocemente e poi sappiamo tutti che le vitamine a ed e sono molto efficaci proprio contro il trattamento delle rughe due poche gocce aggiunte al vostro detergente abituale per il viso serviranno per struccarvi o comunque per la vostra pulizia quotidiana oppure come rimedio casalingo potreste pensare di realizzare un tonico fatto proprio a base di olio di argan aggiungendo poche gocce di oli essenziali agli agrumi ne verrà fuori un tonico molto rinfrescante ed efficace terzo utilizzo con qualche cucchiaio di zucchero di canna il quale favorisce anche l'assorbimento dell'olio di argan potreste realizzare una piccola pastella che andrete ad applicare sul viso da lasciare agire per qualche minuto e che vi effettuerà un bel peeling quindi uno scrub dello strato più superficiale del vostro viso 4 forse molti non sanno che l'olio di argan è anche molto utile per curare le cicatrici dell'acne quindi le macchie e anche essendo un antinfiammatorio naturale aggiunto con poche gocce di titriol svolge un'azione antinfiammatoria sull'acne stessa rendendo appunto l'azione stessa più efficace grazie alla proprietà antibatterica già propria del titriol che molti di voi conosceranno l'utilizzo sul corpo quinto punto sapete che il vostro corpo migliorerà l'elasticità se comincerete ad usarne alcune gocce proprio perché mantieni attiva l'elasticità appunto della pelle prevenendo le smagliature ma perché non pensare anche agli uomini al sesto punto è utilissimo anche come dopo barba come antinfiammatorio per il viso e anche perché va a tonificarlo quindi è ottimo anche dopo la rasatura 7 utilizzato quotidianamente è molto efficace anche come crema idratante proprio per il corpo quindi non solo per le smagliature di cui al punto precedente al punto 5 ma proprio come idratante quotidiano 8 se volete realizzare un balsamo fai da te per capelli l'olio di argan si pressa veramente benissimo poiché ha un effetto anticrespo districante sciogliendo i nodi dei capelli e anche riparatore per le doppie punte ma sapete che è anche ottimo una volta a settimana come coadjuvante della forfora quindi come antiforfora questo forse non lo sapevate vi sfuggiva il punto 9 infatti ci suggerisce di applicarlo una volta a settimana lasciandolo agire tutta la notte applicandolo con dei movimenti circolari sulla cute e lasciandolo appunto agire proprio per stimolare in profondità la cute sciacquandolo la mattina successiva anche l'ottimo impiego come burro cacao per curare le labbra secche e screpolate soprattutto in inverno è un ottimo rimedio dell'olio di argan questo è il punto 10 ma al punto 11 gli utilizzi ci suggeriscono anche che è un ottimo riparatore nonché rinforza anche le nostre unghia e le cuticole riducendo le fastidiose pellicine piedi secchi e screpolati dodicesimo ed ultimo punto dalla manicure si passa alla pedicure ad esempio quando portate per tante ore i tacchi molto alti i vostri piedi saranno doloranti applicando però poche gocce di olio di argan vedrete che ne troveranno giovamento subito si sentiranno più leggeri e meno stanchi perché dona un effetto riposante l'olio di argan che noi vi proponiamo e di cui vi faccio l'offerta oggi che volevo farvi conoscere è quello della saponeria eco questo speciale olio di argan che noi realizziamo puro al 100% in confezione da 100 ml l'olio di argan lo potete conservare anche 6 mesi dopo circa l'apertura tenendolo però a riparo in luoghi asciutti e al riparo appunto dalla luce stessa il nostro olio di argan della saponeria eco ha il costo di 20 euro oggi con la nostra offerta promo lo proponiamo per venirlo a testare al costo di 15 euro quindi con un bel risparmio di 5 euro non è poco se andate in giro a cercarlo comunque parliamo sempre di quello puro quindi che ha una certa importanza vedrete che i costi si aggirano intorno alle 20 euro 25 quindi penso che ci sia proprio un buon risparmio noi vogliamo farlo provare farlo testare quindi vi aspettiamo qui in saponeria eco proprio per purarle la veridicità di tutti questi punti di cui diciamo che vi ho elencato prima un bacio a tutti ciao da momi se avete delle domande da fare circa proprio questa questa pianta preziosa questa noce di argan io sono qui per rispondervi alle volte non è indispensabile avere tanti prodotti per le vostre diverse parti del corpo ne basta uno mirato concentrato che con le giuste quantità e le giuste accortezze magari unito ad altri prodotti efficaci naturali vanno ad occuparsi di tutte le problematiche legate all'estetica di viso corpo e capelli appunto un bacio a tutti ciao da momi grazie a tutti